Vogliono capire quelli che potrebbero essere i rischi e cosa potrebbero andare in conto se questa vicenda non giunge a una favorevole risoluzione. Certo che oggi alle porte dell'inverno, quando c'è da preoccuparsi di dover accendere il termo e con tutte le bollette da pagare che risultano ancora insolute, c'è veramente il rischio e la preoccupazione anche da parte nostra che queste famiglie si trovano veramente al freddo e senza la luce e l'acqua quest'inverno. Il rischio c'è ed è alto. Sono circa 800 le famiglie, anche se non in misura uguale, che potrebbero trovarsi a breve senza luce né gas, perché il loro amministratore condominiale Pietro Piva ha fatto sparire le sue tracce lasciando un buco di oltre un milione di euro. Poi certamente qualora si apra un procedimento penale, cosa che sicuramente avverrà, dovranno pensare a costituirsi parte civile al processo per chiedere anche eventuali sborsi che hanno sostenuto. L'augurio è che comunque ci sia anche un'assicurazione, perché dal 2012 è obbligatoria, ma bisogna capire oggi se il condomino o l'amministratore in questo senso erano assicurati. Se così non fosse, il rischio è alto. In questo senso, se le bollette non vengono pagate, veramente c'è il rischio che qualche rubinetto si chiuda e certamente in questo periodo la cosa è molto preoccupante. Certo è che per dover gestire una cosa in emergenza sicuramente sarà richiesto un contributo straordinario per cercare di portare avanti questa vicenda, ma è anche vero che in un secondo momento dovranno essere restituite le cifre che queste persone dovranno sborsare in questa fase. Grazie.